le scrivo questa lettera gentile rachele per dirle che mi dispiace mi spiace che la sua giovinezza sia stata segnata da un gioco a nascondino tutto è stato generato da un antico patto familiare un contratto tra poveri soldi in cambio di onore una contrattazione tra famiglie lei forse conosce un antonio diverso da quello che conosco io e spero che l'uomo che ha amato in segreto per tutti questi anni non le abbia mai raccontato fino in fondo la natura del nostro matrimonio ci sono storie che è meglio raccontare solo a se stessi per non rischiare di compromettere ogni altra cosa non mi fraintenda antonio un uomo che stimo e rispetto non posso biadimarlo si è preso quello che aveva diritto di prendersi quello che però non ho mai accettato che forse mi fa provare apprezzione nei suoi confronti non ne ho alcun diritto lo so bene ma inevitabile per me dal momento che condividiamo una storia è stata la non curanza e la spontaneità con cui tutto è avvenuto ricordo bene quando pochi mesi prima del matrimonio antonio andò da mio padre a chiedergli di usare le stanze dell'ufficio lo stesso nel quale voi due vi siete conosciuti e vi siete voluti bene non era ancora laureato e quella pretesa mi sono anticipatoria anche in un contesto come il nostro lo fece con il sorriso la gentilezza e l'eleganza nel parlare che lo contraddistinguono mio padre non protestò gli srense la mano e gli diede una pacca sulla spalla i miei genitori si erano abituati presto a considerarlo il figlio maschio mai avuto avendo conosciuto lui ancora prima la madre e il padre io per prima l'ho apprezzato per la sua bellezza e le sue maniere cortesi eppure quell'unica richiesta ebbe in me la forza di disturbarmi con gli anni poi ho capito che una sposa val bene uno studio medico in fondo